Ciao ragazzi, benvenuti in questo video di video assaggi. Oggi, come potete vedere, è tornato un mio amico a fare i video assaggi con me, che non conosce, è Omar. Ciao ciao. Allora, tutto bene? Non è poco che non ci vediamo, siamo tornati qua, alla Rivalta, e vi dirò che spesso e volentieri ci sarà anche lui tenere i compagni in video assaggi, quindi faremo un po'... Assaggiare molte, molte cose, ci saranno anche delle novità in arrivo che non diciamo adesso segreto. Allora, che cosa andiamo ad assaggiare oggi? Oggi andiamo ad assaggiare questa bibita che ho preso in Croazia, che è Sensation, al gusto, bazka e limone. Allora, ho controllato sul traduttore, cosa vuol dire, bazka e limone in croato italiano. La bazka sarebbe Sambuco e limone è limone. Ho letto anche qualche recensione e la paragona, alla Fanta quella, fiori di Sambuco e limone, quella blu. Mi sa che quasi è quella, invece di essere imbottillata nella Fanta, è imbottillata anche qua. Comunque proviamo, i bicchieri ce li abbiamo, apriamo e provo il fatto, per la bottiglia mi serve. Prima a te, ci mi fa? Aspetta, devo fare... Sì, in effetti, se io la Fanta quella l'avevo assaggiato una volta, in effetti è quella, cioè l'odore è quello. L'odore è quello, l'odore è quello, l'odore è quello della Fanta, è più fruttato. Forse è un po' più fortino? Più fortino. Passiamo al sodo. Al sodo. Passiamo al sodo per riempire la parte. Prima gli ospiti... Siamo ospiti tutti e due, lui è ospite mio, io sono ospite suo, cioè, quindi assaggiamo il cin. Di qualità, mi piace di più questa. Limone non ne sento. Limone ne sento più più... E' cosa? E' meno dolce della Fanta, secondo me. Tutto qua. Limone non lo sento. E' cosa? La Fanta, secondo me, è più dolce. E' più aspa la Fanta, perché secondo me c'è dentro il limone. Quale limone, se non so quanto limone c'è dentro il percentuale. Allora... Una fena più fresca questa, meno... Allora, concentrato di... Di basca, 5% di limone, 0,5%. Quindi il gusto della basca. Del fiore di Sambuco, chiamiamolo fuori di Sambuco, ne vale ancora un po'. Sì, comunque è di 70, buona. Io dovrei bere poco, perché c'è una dieta, eh. Quindi... Ah, ma quanta, no! Che finirà? A vero, perché io... Un po' la bottiglia mi sarà mai che devo farla qua. Ne so seggi un po' la volta, non la bevo tutta adesso. Lo tieni per dopo. Tanto sai perché ci devo morirci a cuore la bocca per un altro video assaggio. Esatto, perché sarà... Che uscirà settimana prossima. Esatto. Però dai, mi piace. Sembra un po' il succo di lici. Presenti le lici? Sì. Sembra il lici. Quello è tutto tipo lo biancastro, buonissimo. Piccolino. Per me è quello, però sinceramente non mi dispiace. Mi dice tante. Se devo scegliere tra questo e poi la panta, rafferire questo, che è molto più delicato. La panta è più stufa di più, è più dolciasta. Se voi avete, se voi vi siete persi i video in cui faccio il video della panta blu, la panta scioccata, andate a rifescare nelle schede o a fine video vi metto il video. Perché quando sono stato in Croazia c'era la panta blu, però ho letto, si chiama panta scioccata. Solo che non ho letto, sarà quella a Sambuco, non lo so. E poi tornando a casa, visto che era quella, il fior di Sambuco, quindi era quella. E non me la ricordavo così, avevo fatto un video così. Comunque questa è la coppia più delicata della panta blu. Si, è più fresca questa. E meno... Poi adesso che l'abbiamo tenata fuori dal frigo, è più buona, perché in solito le vite vanno bevute fresche, ricordatevelo. Comunque, voto, diamo ogni un voto. Da 1 a 5. Allora, da 1 a 5, da 5 sarebbe troppo, perché è 4. Io darei un 4 e mezzo, perché non mi dispiace, non mi dispiace. Quindi, approviamola, è approvata. Approvata. Comunque, grazie per aver visto il video, mi raccomando, seguitemi tutti i miei social, iscrivetevi, attivate la campanella. Grazie per l'invito. Ma grazie a te, per l'invitato. Cioè, è un invito a vicenda oggi. È un video di invito a reciproco. Comunque, se sentite l'ambulanza è fuori, ma non c'entriamo niente. Noi non c'entriamo, noi non c'entriamo comunque. Comunque, ringrazio tutti voi che avete visto il video, mettete un mi piace, spolliciate. Like, 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 like. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.